Microsoft ha avuto la meglio su Amazon ottenendo un contratto di 10 miliardi di dollari con il Pentagono per l'utilizzo della tecnologia cloud. Si tratta di un contratto di 10 anni che mira a modernizzare l'intero sistema informatico delle forze armate americane. La decisione è stata presa malissimo dal colosso dello shopping online che, convinto che la propria offerta fosse comunque migliore, sta meditando un'azione legale. Il sospetto è che il presidente americano Donald Trump abbia pesantemente influito sulla scelta da quando ha iniziato a rivolgere pesanti attacchi al proprietario Jeff Bezos, a cui l'unica consolazione in un venerdì nero è quella di aver riconquistato, dopo averlo perso temporaneamente durante la seduta di Wall Street, lo scetro di uomo più ricco del mondo.